Destro, sinistro, antipasto misto, mamma mia, buongiorno, un cazzo, via, forza, forza, eccolo, il bambolotto. No, vabbè, raga, no, io non esco, cioè, sta pieno di figa. Mamma mia, che scatto, e anche oggi so salvo, mamma mia, sta pieno, non sapevo manco il cancello stamattina, per quanto è pieno. Dove manca prende il bolide, eccolo, si riposa, che spettacolo, voglio il caldo, via. Raga, si lavora, poi si va a casa, si sta zitti, mosca, zona rossa, rossa come il demonio. Raga, mi date il buongiorno, no, che famo, dormimo? Forza, forza, che è ora, via. Sapete questi occhi, quante sono cadute alle mie braccia? Zero, che disastro. Domani si sta a casa, si produce, si fa, quindi un altro weekend al top passeremo. Sono super, super convinto. Intanto, YouTube, e via. Fantastici pranzi, in zona rossa. Ma che spese hai fatto, scusa? No, non è mezzo, tutto è chiuso. Cioè, tartine, ma che è, Capodanno? Allora, maniamo la Bressaula, via. Acriosauno. Pranzo, trattamento, che famo oggi? Visita ginecologica. No. Mi hai una screcchiata, io la chiamo una screcchiata. Tu come la chiami? Termini tecnici. Manipolazione osteopatica della colonna vertebrale. Ma va, per culo. Ma parla potabile. Parla. No, no, voglio riprendere tutto, voglio far vedere che sei fatto. Vai, vai. Oh no. Ma scacchi, dico io. No. Eh? Oh no. Ma via, che? Santa Maria, ma via. No, non c'hai chiappato. Maria piena di grappa, signora in cantina, più umbriaco che primo. Ma la mia fana, io te scoccio. Eh, la mia fana. Va via. Va. Va. Va via. Io prometto. Ave. Ave. Il gaudio splendente. Ave. Tutti insieme, vai. Ave. Più forte. Dai, nonna Marie. Ave. Maria. Vai, uno. Ave. Dai. Ave. Ave. Ave Maria. Zan, zan. Dato Gesù Cristo. Sempre sia allorato. Sempre, sempre. Poi, me scegli. Poi, me scegli. È caldissimo. Pio, bastonza. Copacabana. Pio, bastonza. Scegli io. Scegli io. Scegli. Scegli. I mesili. I mesili. Eccolo. I mesili. I mesili nucleari. No. I mesili atomici. No. Quanti toni. No. Stramsolo. No. ho messo la macchina alla rovè eh bravo bravo e perché? perché ce vede no perché questa di qui mi fa male mi dobbiamo fare scherzo mettono dai di qui che ti dà che ti ci fai di qui si tu qui do ma sempre eh fermati ma sei matto vettere che condotta allora allora non mi comodo io davvero infatti cioè c'ha ragione nonna ma vattene dove andate si scherzo di giubbata a fare un vomito vacci cosa andate ah tirami giusto cosa fa il nasce da via cosa fa cosa fa una sega e poi oh e poi e dopo vaffanculo oh direttamente dai carabidi 25 gradi addirittura 25 l'ho chiamato eccoli ragazzi c'è l'aria della spa sembra che sta sulla sauna ma tu si sente carlo sciacca di coglione va a casa tua niente ha ammesso che casa è la mia si ma la compra casa è la mia si qua la compra casa è la mia vattene ah di chi è casa valla bene che dopo polvetto da me tu cappini voglio comprare la moto da cross ma vai a f*** tu vuoi la motocicletta da me tu cappini ci ti do tre cazzini mannaggia il bambone stai vattene oh ma vaffanculo stacca 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 io il tubo andate ma annaggia l'amato no no ma com'è che la mia la madonna non c'è la mia ma cazzo che stai fanno no una sega che stai fanno una sega che stai fanno una sega fai voglio la sega come fanno tic 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 guarda diri vai più sega 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 ma come fanno guarda 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 come ride guarda è vero guarda 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 ma se l'ho mangiato pure vedete io l'hai mangiato guarda come sottibacchi ride o no si ride basta che te ride guarda come gli viene da ride no 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 tutte le minacce ma via no che è freddo fuori insamai poi sta pieno rossicini o no come fa la pecora o no come fa come fa e va a fare culo la arzuche fermate che ti infiggio le forbici nella tripa mi fa cazzare a me ah io sono cazzato alla no è vero la stupa si spesa e quindi metano il metano che fa con questa busta del pellet che stai fa con questa busta del pellet guarda quanto posto fia si era tutta gonfia la mettendo la palla la riempi così manca meno però si vede la trippa però si ci vede la fila che la fa che ti dà dà dimmi che ti dà dà la metto sul culo che la mette ma che questa questa testa di cazzare questa guarda qui mi la fa calcare ma che c'è fe con la pila me la metto sul culo e dopo oh oh no nonno buonanotte a tutti anche oggi in diretta eravate tantissimi vi voglio bene mi raccomando non dormimo anzi adesso andavo a dormire in nevero andavo a dormire siamo stanchi domani sta pieno tutta la giornata in casa non vedo l'ora per rivivere sempre le emozioni delle nostre storie andate su youtube sul mio canale ufficiale carletto life e iscrivetevi per il resto buonanotte vi voglio bene ciao